La sua ragione per la quale sto da questa parte del Tauro, non da parte nostra, non è sottoscritto, ma l'Istituto ha deciso di fare un passo avanti e quindi il merito è portato a questo posizionamento, comunque si apprende anche da questa parte, per quanto è stato avvento il dato. Vorrei dirvi che hanno molte cose da dire, ma c'è sempre invece di fare una semplice che parte dalle ragioni per cui l'Istituto ha deciso di dare il suo contributo, il suo sostegno, il politico della Fata, perché questo è stato l'importante, la migliore del tempo. Quando alcune mesi fa, con Alberto Magnuno, io ho parlato dei 60 anni della banca, perché questo è il dato 60 anni fa, abbiamo riconosciuto il più comune, anche con la Luce di Salerno, 70 anni fa in grado di vista. Diciamo che noi abbiamo in qualche modo un traslato di isolamento, non che hanno uscito a grado di vista, anche il venerdì del 50, anche il venerdì del 40 e il inizio del venerdì del 50. Siamo andati a cavallo tra due gruppi, tra quella è Bernardo e Cortina, non abbiamo dubbi, quelli di 2016 possono essere quelli uguali Fascio, ovviamente è quello che è proprio che darà anche Milano e nel Gisentorico I Popoli, e quella di Roma, che rappresenta ancora oggi una idea straordinaria per la nostra città e per il nostro paese. Forse allora il Cori da una parte, e grazie a due mesi perché l'ha portato, l'ha portato, e il legislatore hanno pensato a una verità anticipata, prima ancora che l'impianto di Roma nascessero, sponciassero, si è pensato a quello che poteva diventare la struttura delle infrastrutture struttive italiane, quindi ha costituito un unicum a livello internazionale. Non c'è un'altra banca dedicata alle infrastrutture struttive. Quindi siamo un piccolo esempio e cominciamo a essere studiati anche da altri paesi molti più evoli del nostro, e questo territorio è uno di voi ricordi. Dopodiché, in fronte all'operazione di un senso culturale e civica, almeno per questo anno in casa, la tematica sportiva, nasce la domanda spontanea, anche l'azione dell'attività, e anche un po' la contrarrendenza, all'irrepetezza, lo studio, il gestionario del distribuito di questi ultimi anni e mezzo, ovvero un lavoro con la cultura, cosa ci sperate? Perché oggettivamente, questo è un documento verbo, in qualche maniera si consegna anche alle ambientazioni storiche, e quindi per il terzo del contributo culturale. La banca, da adesso e poi, farà risvegliare qualcosa che è costruito dal 2014, e quindi per la stessa intraprendenza con la quale abbiamo costruito decine, abbiamo costruito ancora, forse decenni e decenni in tutta Italia, tutte le decennie strutture, ci impegneremo, per anche avere il resto dei stessi punti di scopo che abbiamo per lo sport, come il fungo di quella situazione, per l'interesse, cercheremo del nostro sport a impegna la vita struttura del nostro paese, teatrici, cinema, musica, città ecologici, biblioteche, musei, e quindi anche il tema dell'editoria, che abbiamo una scuola di città storica, e comunque guarda il futuro, e poi verrà questo istituto in quelli valenti in termini di individuo, quindi quello che è stato fatto con questa iniziativa, è aprire un po' tutta, di una collaborazione, come ho scritto, nel tipo di intervento di Abertura, di ragioni di un percorso comune, di un certo punto di consolidare, perché la banca possa dare il senso anche, nel futuro, che cerca di interpretare e anticipare, a dare l'incontro, tenendo conto di quelle che sono le nostre, nella nostra storia, le nostre parti culturali, tutti pensano, anche sottoscritto, che le infrastrutture fisiche abbiano delle fondamenta fisiche, io ho imparato questo allemento, che le infrastrutture fisiche hanno delle fondamenta di materiale, e se non consolidiamo queste fondamenta, i materiali, anche le infrastrutture fisiche, è più grande di loro, perché non si intererà dentro queste strutture, con lo spirito giusto, la giusta cultura, la giusta educazione, il giusto rispetto, quindi lo sforzo che noi cerchiamo di fare, a volte silenziosamente, oggi, grazie alla rivista, che emerge, è quello di dare qualcosa di più, perché non ci accontentiamo più, semplicemente, di essere insieme ad altri attori, e i protagonisti silenziosi, per esempio, delle persone ecotrattiche, dei geni, dei tecnici, e soprattutto i volontari che sono a parte del nostro sistema, ma la verità è che, se vogliamo guardare la futura non mancano tutto un fatto, perché da fiducia finanziaria nel tempo, dobbiamo cominciare a rivalutare l'importanza e la centralità, appunto, delle infrastrutture materiali, che la strutture di queste rappresentano un elemento fondamentale. Continueremo a sostenere la rivista, anzi, proseguiremo, rispetto a questa prima esperienza, perché stranamente, nel tempo, le nostre esperienze sono state due rette parallele dove ci sono le toccate. Questa è un'occasione, invece, di avervi una collaborazione che consenta, non di crescere, ma di crescere, ma di crescere in vista, che già è presso in questi 60 anni, una strada di legale di qualità, ma di continuere, poche non è fatto scontato. È chiaro che il Comit, rappresenta la grazia che è la custodia di questo tesoro che è agli strutture di più. E forse lo sforzo ulteriore, ma di cambiare per le stesse tecnologiche che possono essere maggiormente fuori di questa produzione ideale, è quella di portarla fuori dai canali e dai gammi internazionali. Questo è un'opportunità anche per la stessa di disposizione del mondo che sta fuori. E io credo che il sistema sportivo possa ancora crescere molto dal punto di vista dell'educazione e della distruzione di un'ultima piccola esperienza della mia leggenda del Presidente di Marietta. Ho scoperto improvvisamente che i cacciatori, i dirigenti e i teici non avevano mai detto venire l'elettorio di faccia. Può sembrare strano, ma è così. Questo vuol dire che dobbiamo, oltre che in un'oportunità di ciperdittoria, lavorare con feroce con attenzione sui limiti che parlano proprio da quelli di Marietta. Grazie. Grazie. Grazie.